Onorevole carissimo, ma cosa sta succedendo? Insieme a professore, e niente, che succede? Che stasera stiamo a bocca asciutta. Ci hanno redattato la polizia, quindi ci ha detto malissimo purtroppo. Che disastro. Onorevole, mi raccomando, bloccate quel disegno di legge, eh? Nell'individuare i clienti con le targhe sarebbe una tragedia droce, lei lo sa. Ma che stasera, noi abbiamo già requisito sette e otto parlamentari, stanno con noi, faremo i baricati. Perfetto. Ostruzionismo fino alla morte, Fatemi. Ma anche quella bagianata di voler riapire le case chiuse? Ma che cos'è questa idea polverosa? Un'idea così retrocca non serve a niente, ma siamo pazzi. Ma poi case chiuse di che cosa? A casa chiusa uno entra, entra nel lotto e non sa mai chi becchia. E per lì invece all'aperto, che uno può scegliere quello che vuole e ci vede bene. Ma poi, onorevole, la strada è sempre la strada. Il suo fascino, le sue vibrazioni, le sue novità. Professore Sette, una cosa. Il 22 mia figlia dovrebbe dare un esame con lei. Come ci possiamo regolare? Che problema c'è? Lei il 21 sera mi chiama e me lo ricorda. Tutto fatto. Perfetto. Mi saluti la sua dolcissima signora? Grazie, riferirò. Ma perché non viene una sera a scena da noi? Lo diciamo sempre, non lo facciamo mai. Facciamolo questa volta. Mi saluti il suo capogruppo alla camera. Io vado sulla palmiro togliati, comunque. Se siamo qui. E Scadente, Tiberina, chilometro 7,5. Ottime scelte. Mi saluti. Mi saluto.